Direttore, è uscito il nuovo DPCM, ci sono delle novità soprattutto che riguardano bar, esercizi pubblici, chiusura entro mezzanotte e qual è la posizione della CNA? La nostra posizione è quella intanto di tutelare sempre la salute e di mettere questo elemento al primo posto. Nello stesso tempo però, come ha riconosciuto anche il Presidente Conte, non si può distruggere l'economia. Quindi si parlava di un orario più basso, quindi è un buon compromesso quello delle 24, ma noi dobbiamo renderci conto, lo sa anche il Governo rispetto a tutte le analisi che sono state fatte, non sono quelli luoghi di propagazione della pandemia. La pandemia si propaga molto di più in famiglia, con persone che si conoscono, quindi bisogna aumentare molto di più in questi settori la cultura della prevenzione, dell'uso della mascherina e dei dispositivi. Potrebbero arrivare delle novità, soprattutto sul piano economico. Finalmente il Governo ha capito che bisogna passare da interventi di ristoro massivo, così come è stato anche giusto fare nella fase di lockdown, a interventi più mirati, verso quei settori che hanno subito di più la crisi della pandemia. Parliamo del punto dei pubblici esercizi, parliamo del turismo, partiamo del trasporto persone. Noi abbiamo settori delle fiere, abbiamo settori completamente azzerati, ecco su quelli bisognerà concentrare la maggior parte delle risorse. Beh, innanzitutto c'è da premettere che ovviamente è interesse di tutti mantenere basso i contagi e anche e soprattutto per le attività economiche. Probabilmente si poteva evitare la chiusura anticipata alle ore 24, perché dal nostro punto di vista servirà poco. I locali sono già attrezzati con le linee guida, c'è il rispetto sia da parte dei titolari che da parte degli avventori e clienti, per cui probabilmente non vediamo di buon occhio questa misura. Però, come dire, speriamo che il tutto si risolva a stretto giro, anche se l'inverno sarà dura e ovviamente è un'ulteriore doccia fredda che arriva già da 6-7 mesi abbastanza dura. È vero che alcuni tipi di attività, soprattutto nel periodo estivo, luglio e agosto, hanno recuperato qualcosa. Il turismo, come sappiamo, in questa regione è andato abbastanza bene, anche se non siamo riusciti a recuperare il mancato incasso, il mancato guadagno della primavera, del periodo del lockdown. Chi era già in difficoltà, sicuramente questa nuova ondata potrebbe creare problematiche ulteriori e quindi bisogna stare attenti. Dal nostro punto di vista sicuramente bisogna attenersi alle regole, tutti lo stanno facendo o comunque c'è una consapevolezza diffusa da parte sia degli operatori che dei clienti. Quindi chiaramente se si chiudono di nuovo le attività si rischia fortemente la debacle.